Non ci sei andato da Mammare ancora? No, mi hai detto che non è niente di che 7,50 e una margherita ne sta vendendo un gelapagos No, tra Pizza Rosso e Mammare secondo me è 3-4 gradini sotto Sicuro 3-4 gradini sotto? Sì, Pizza Rosso è molto più buono No, allora che cazzo, com'è, minchia 7,50 e una margherita, zitta No, non è bene, ma chi ti ha detto 7,50 e una margherita? E' su Delivero E' su Delivero Delivero, no, comunque Come tutto il misterio Ormai, ovunque vai Gli succedono la cappella quando vai a pagare Pure se ti mangi un bezzo di pane 40 euro Scusa, porti il code 40 Ma scusa, mi sono solo seduto Se, guarda Meno di 40 euro in una bottiglia acqua non la paghi Un gishic, se no, sono bei 40 euro, come Voglio, simulazione di star rosso Una da me? Eh, comodo, se proprio senza armi, se Codine armi Una terra Guarda Guarda, guarda Guarda Guarda, guarda Guarda, guarda 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 è sotto comunque c'è qualcuno che sta nuotando si io non mi piglia la vostra luce io non lo sono schiavato ah io ho fregato la corona voglio ieri che tagli accettati ma come belasca indiretti cazzo a me la posta molto più bella doveva andare qua dopo ma ormai che esista sul giorno l'ho visto voglio mi ha fatto malissimo poi io l'ho ammazzato mi ha vendicato zici mi ha già ammazzato si mamma mi ha fatto male questo cos'è c'è un nuovo fucile viola esizza etta ma dammi il bomba blu dammi un bomba blu mangia un bomba blu no zii ti do una mitraglietta blu vieni qua vieni qua vieni qua dove sei aspetta fammi incozzare bro vai 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 facciava angelo mi medichi andiamo dove ho finito io che c'è così il goku beh che c'è scatti scatti stella rispettacolo e c'è la taglia ma io c'ho fame porca troia non riesco a mangiare poco tu fumi non è vero tu fumi comba nella cabinovia ma che schifo mamma che schifo non c'è non c'è la mia casa taglia cos'è questo questa punta l'abbia trovata che puzzava foro berto era toccato voglio di cazzo su voglio che stanno ammucciando sicurione ecco lì la una terra mamma mia ecco lì c'è un altro e beh non era solo sicuramente ancora c'è un altro da qualche parte e poi non giù male in realtà nuoto secondo me eccolo la no 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 c'è un altro ancora datemi la splash e anna sta portando tutto oggi tra camminate posti di scarro sono caricatori lì lì appende al cazzo di goku non è goku come cazzo che mai si chiama tempo ma perché noi voglio vedere che non magari sono stati scialati all'aggiornamento ma non rifanno aggiornamento di dragon ball voglio non avete messo no e c'è il simbolo della r la navi sull'acqua super verde di coi pilast se non mi sbaglio o finalmente qualche cosa simpatica secondo me la prima stagione sarà figa se rimettono la bomba energetica ma tanta roba ma a me questa pure è piaciuta pure la scorso a me quella che è piaciuta di più di tutto sarà quella di dragon ball l'aggiornamento di dragon mi navicherà rubo la spirit al manetta comba altro che martello mi navicherà rubo la spirit al nulla martello poi io c'ho previsione e oggi da questa parte cosa prevede che oggi non ubi spazi adriatico sono spanno e sinistra con l'adriatico che tempo fare mal cani poi passi da me voglio comunque è un ricchio frate il palo e 222 maia silva silversur e silversur ecco come mi fanno a me io so ma dov'è? guarda dov'è a terra a terra quello quello la è coda la montagna 10 per l'inverno e 3 per finire che gay questo poverino ma dov'è chissà giù scusi era qua 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 oh il punedì deco ma bastardi ho visto una macchina volare dove cazzo volare la safe è dall'altra parte io voglio dobbiamo andare in cerca ma abbiamo pure qualcuno vicino a noi che eh zia dammi una cura mi date le munizioni voglio per favore porca la purga grazie mi chiesto sta cercando munizioni inizio partita come io che cale munizioni per tutta la partita voglio voglio gente voglio aspettatemi un attimo io sento una moto sento una moto mamma mamma l'ho scopato via dove è? raga mi sa che sono qua sotto eh dobbiamo andarcela perchè fra poco arriva la zona comunque dove è? dove sono? dove sono? dove sono? dove sono piaciuto col pugni venga zittore come il traiardone come il traiardone tipo quello come il traiardone è dietro sono Piero e sono un traiardone capito venga scatti in stellare lo vedo in 98 comunque nemmeno per sbaglio no poi io mai testo che il doppiatore di goku in giapponese una vecchia e non lo sa bene io so che era una donna ma non una vecchia HAKAROD no quello è vecchietta oio vecchietta via rucicolo comunque perenn tend sono già nato con un giugno e ingazzato mi senti nervoso ci combate l'assist e infatti i combate l'assorbente non ci rubano oh stanno sparando ragà oh io King Viola siamo in safe della safe in safe della safe oh 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 punto di riferimento a 399 oh 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 stacchendo la safe comunque siamo abbandaggiati voglio viviti voglio il cazzo duro guarda come sta aspettando deve spruzzare sta scappando sta saltellando io non lo ha dietro che non è come va a sparare o è qua bro ma quando sono io via ragazzo questo fuori di quasi uo io la mano vieni vieni qua vieni qua vengo con voi vengo con voi è incredibile mi sa sparare il pugno dammelo a me dammelo a me lascio ma ne è zero un c***o a mia vignazia che è a mia zero il mio visiglio scusa 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 ecco qua no mi ha preso vieni 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 prendimi il bolo come ti carico 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 triangolo vabbè vabbè non so che li prendi uuuuuh e dove è che i zio pia? ah io non lo so, non lo so non lo so, non lo so non lo so, non lo so non lo so non lo so guarda dove è pia la mia, pia la mia ah tu fio mi hai preso il martello io ce lo ho giro non mi dico che c'ho 2-3 pozzoni a me servono una subito un 6 io sei morto vangio nooo dove sei? nooo non ci credo no 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 ce l'ha fatto ce l'ha fatto ce l'ha fatto ah se cosa minchia ma avete tutte le schede raga si se ci restate abbiamo win ah no eh qui è vita no andiamo a restare lì andiamo a restare lì dove? questo vicino ragazzi ah si al ping al ping al ping al ping ne avete uno sulla sinistra se non fai qui fuori safe ah ok eh matendo la sopra ma quando ti ho visto qualcuno è molto interessante io abbastanza si c'è gente la sopra no angelo devo fare il giro largo sii no 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 ma non ci puoi andare tra l'altro eh sta avvenendo di qua sta avvenendo di qua vieni 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 fai il giro largo fa il giro largo no 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 ti anticipiamo zi ci sta avvenendo col martello comunque eh meglio che venne a pusha edge va bene e lo pushiamo nuvo a sto pawn quanti sono? sei quindi io ho solo un team eccoli qua è basso è basso zio a dove va? è andato è di qua me dov'è? ah no con pollo braaaavo a te bravo 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 ma chi era ma tonza è qua? è cretino figlia l'avete scopato? no a me o mi ammazza la gallina tanto che sono basso mi qua angelo ma faccio le meduse angelo si andiamo a farci subito le cose un gula mamma da stu pezzisci fai prendere il le di nebbia l'angelo fai qua uno no come è scarso che coglione eh ce l'ho dietro c'ho goku dietro c'ho goku dietro bella bravo bravo madonna mia del carmine bravo bravo che gay questi comunque con v30 vittoria le doi io